buongiorno dove stiamo andando addosso blu blu in trasferta no questa volta siamo invitati ad un testo ma il cielo è sempre più blu ma che bello che c'è il sole dopo il giorno e il giorno di viaggia finalmente il sole troveremo delle blu blu basta terminato il momento cinematico siamo al film d'orrore trullalla 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 bene il pranzo sta andando abbastanza ma bene 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 che dire ecco abbiamo visto le occhette facciamo vedere questo niente facciamo l'intervista doppia nome dominga manuela cognome motto la età 43 titi 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 39 colore preferito nero tutti sono cambiata prima sono nero però oggi sono di un altro colore giusto per fare la preferita napoli nessuno italia piace ballare e mi viene meglio a ballare quante cazzo facciamo una giornata ecco una tante come sta andando bene stiamo mangiando con i maialini fino a molto bene ho rimasto poco e niente come mai ce n'è due perché mia figlia non ha voluto non ce l'ho mangiata io ah ok ce la fai no enorme troppo grande basta ci siamo arresi è troppo pure manuela si è resa abbiamo un problema abbiamo un problema vorremmo andare sulle giostre ma non ci possiamo andare nella nostra portata sono belle ma sono piccole io poi sono extra 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 large vabbè la mia nipote per me perché ci guardano tutti tutti guardando perché ci auto unidiamo tutte e due forche vi occhiamo abbiamo un canale migliaia i video si fanno da soli dimmi amore bravo orgoglio di sua zia che ti piace leggere i libri bravo amore se hai il coraggio ripeti quello che hai detto perché hai il vestito largo mi consiglio ci sembra la pancia dopo mangiarlo che abbiamo mangiato la pastina tanto no abbiamo mangiato tanto tanta pastina la pastina no niente pastina lasagne frittura antipasto di mare monti fritti che altro abbiamo mangiato lì sotto già faccio giù non posso più parlare non posso più parlare ma ascolta cosa fai questa mattina se hai misato un vestito mi ero misato un altro vestito si è come c'erano le cose interessanti solo che era aderente e quindi sembrava già la pancia in previsione di aver mangiato la pasta di mangiare la pastina allora ho detto fammi mettere il vestito largo perché sei zitta no? arriva e accende subito su una mamma il più veloce del vestito è tecnoloso perché? c'è mamma c'è mamma sono anche di riprendo dai mamma guarda c'è tutto papà ciao ciao ma dove andate? vediamo un po' come si ferma yuppie si l'andata 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 io sono andata dovreste sapere che mi sto prendendo in giro perché cioè in poi deve andare in giro con una collana così poi ne ha andato il prossimo regalo è una collana buona si può si può Scusa, dovevo mandare la porta. E si inizia a andare. Perché? Mi scappa la piccina. Oddio il mio brufolo! Salute che chiudiamo il vlog. Ciao. Ciao.